Salve! Come si chiama? Mi chiamo Monica Ah, un bel nome italiano! Piacere Monica, sono Nico Piacere mio, Nico Ok, ecco qui! Benvenuta a Napoli, Monica! Grazie mille! Ha capito? Non si preoccupi! Buonasera! Buonasera! C'è un tavolo libero? Dentro o fuori? Fuori, per favore! Va bene, qui? È perfetto, grazie! Cosa desidera? Ho molta fame! Vorrei una pizza! Certo! Ma che tipo? Che cosa mi consiglia? La mia preferita è la classica! Ma com'è la classica? È una pizza margherita Mozzarella Basilico E pomodoro Delizioso! La prendo! Una pizza margherita? Per favore! Perfetto! Torno subito O anche 7 Vorrebbe qualcosa da bere? Certo! Cos'ha? Vorrebbe un'acqua gassata, una coca, vino o birra? Vorrei una birra con la pizza! Grazie ragazzi! Grazie ragazzi!